Come ogni anno ci si incontra qui al Baio Burgio per i classici auguri di Natale con il folto gruppo che ormai è diventata una famiglia? Sì, è ormai una tradizione, per me è importante il rapporto umano in politica e quindi ormai rivederci qui prima delle festività ogni anno da Totino Burgio è un qualcosa che ormai, ripeto, è diventato nella mia vita qualcosa di importante. Fare politica significa creare una comunità, io da questo punto di vista ci sono riuscito e quindi davvero oggi sono contento di avere tanti amici che insieme a me oggi ci scamberemo gli auguri appunto per questo Natale. È anche l'occasione però per un momento politico importante perché presenteremo i dipartimenti comunali di Forza Italia delle città di Marsala e di Mazzara quindi continua questo rilancio del partito, avviciniamo tante professionalità al mondo della politica che la politica ha tanto bisogno di competenze in un momento storico davvero complicato dove purtroppo ci sono gravi pericoli anche per la democrazia. Basta vedere quello che è successo stanotte per l'approvazione della finanziaria al Senato o per dire fuori dall'Italia quello che sta succedendo in Francia. Come si sta organizzando Forza Italia a Mazzara per le prossime comunali? Si sta organizzando facendo il lavoro che la politica è buona selezionare la giusta classe dirigente, Mazzara non è una città qualunque Mazzara è una città importante nello scacchiere regionale, nazionale e internazionale anche per la posizione geografica che essa ha. Mazzara è importante davvero, ha avuto dieci anni di mala amministrazione bisogna che tutti noi che amiamo Mazzara si lavori facendo anche se serve dei passi indietro per fare fare alla nostra città il passo decisivo per farla diventare davvero la città che può garantire un futuro a tutti i suoi cittadini. Cosa ne pensa dei nominativi a sindaco che sono usciti fuori nelle ultime settimane? Io non sono abituato a guardare a casa di altri, devo dire che purtroppo se il buongiorno si vede al mattino è davvero una triste giornata rispetto ai nominativi attualmente in campo però penso che la politica ha bisogno che si organizzi bene perché è un momento in cui serve selezionare la giusta classe dirigente, non si può improvvisare, fare politica è una cosa seria serve competenza e serve passione, serve capire le cose e serve amore allora noi dobbiamo fare questo, lo stiamo facendo con tanti sacrifici perché forse Italia, il mio ambiente, il centrodestra di governo della regione ha tanti nominativi che potrebbero guidare questo percorso però bisogna trovare la persona giusta che riesca a tenere tutti insieme perché ripeto non si può più sbagliare, è arrivato il momento di dare la giusta classe dirigente ad una città importante per fare in modo che da Mazzara possa davvero ripartire un modello di amministrativo e politico che possa essere anche da esempio per le altre città.